Musica Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno e benvenuti a Casa Rossini, il nostro salotto che va in onda in diretta ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Abbiamo ripreso da due puntate la bella abitudine di essere in diretta dopo una pausa di qualche settimana dovuta al periodo di zona rossa, stiamo come tutti augurandoci di avviarci verso periodi più sereni ma questo non ci impedisce di adottare delle precauzioni, vedrete fra un po' che in questo momento io sono solo in studio e in questo momento sto senza mascherina ma poi quando arriverà il primo ospite indosserò la mascherina proprio per dare questo segnale molto forte da inviare a tutti quelli che ancora non si convincono della necessità di arginare in tutti i modi il contagio che complice anche appunto la diffusione del vaccino dovrebbe portarci fuori da questa situazione. Allora, oggi partiamo con i contatti, i contatti di oggi 351-708-9977 e casarossini-tv.it per mettervi appunto in contatto con noi, mandarci segnalazioni, indicazioni, messaggi vocali, foto, immagini, video quello che volete e tra l'altro con indicazione, nel caso noi lo manderemo anche in onda e lo commenteremo e anche per rispondere al sondaggio del giorno. Dalla ripresa appunto delle dirette dell'altro ieri abbiamo deciso di lanciare il sondaggio con un certo anticipo. Questa cosa ci crea un po' di problemi nel dare i risultati, però cerchiamo di non fare confusione. Allora, nella puntata di mercoledì il sondaggio era sul pranzo di Pasqua, il pranzo di Pasqua fatto in casa oppure ordinato ai ristoranti da asporto, domina col 91% il pranzo in casa, il 9% si è rivolto all'asporto. Da ieri è invece anche online e ci resterà ancora per tre orette il sondaggio di oggi. Allora, il sondaggio di oggi è un sondaggio tipico di questo periodo dell'anno, anche se secondo me il risultato è quasi scontato. Però, preferite la primavera, e questo è il sondaggio, oppure preferite l'autunno? Siamo insomma in primavera, con le giornate di oggi, non è che voglia influenzare il sondaggio, però vi dico già che siccome è online da diverse ore, ci resterà ancora per tre ore, per adesso il 68% prevale con la primavera, 32% per l'autunno. Il prossimo sondaggio che andrà in onda per lunedì lo vedrete sui social, sarà su Parlare o Ascoltare, ma di questo avremo modo poi di confrontarci. Oggi è il 9 aprile, 99esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 266 giorni alla fine dell'anno, secondo il nostro libro Personology è il giorno dell'eccesso. Non c'è nessuna giornata celebrativa particolare tra le celebrazioni civili, mentre la Chiesa Cattolica ricorda San Massimo di Alessandria, che divenne quindicesimo vescovo d'Egitto, inoltre acquisì la carica di patriarca, massima carica del patriarcato di Alessandria d'Egitto. Per capirci, siamo dalle parti del Trecento, per cui insomma sono passati diversi annetti. L'evento storico che abbiamo scelto per il 9 aprile è il battesimo dell'aria per il Boeing 737, lo vediamo qui in alcune bellissime immagini, è il più diffuso aereo di linea del mondo, è entrato in servizio nel febbraio 68, ma aveva fatto questo volo sperimentale proprio il 9 aprile 1967. Era stato sviluppato come bimotore a basso costo, per rotte brevi, derivato da altri due modelli, il 707 e il 727, col tempo si è espanso in una famiglia composta da 10 modelli commerciali con capacità variabile tra 85 e 215 passeggeri. È naturalmente l'aereo più diffuso del mondo al momento, ed è naturalmente l'aereo che ha avuto più incidenti, perché se non altro per un discorso statistico, ma è un elenco che pur avendolo io visto non voglio farvelo e non ve lo racconto. Andiamo con il pensiero del giorno, nel palcoscenico della vita un cambio di scena può far progredire l'azione, e l'azione che io faccio adesso è quella di indossare la mascherina, perché mi riconoscete? Sono sempre io. Perché è entrata la nostra ospite, la nostra prima ospite alla quale diamo il benvenuto, ed è Laura Cicco. Buongiorno Laura, ciao, benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, avete visto anche nell'immagine totale il nostro studio, forse lo state vedendo adesso, il nostro studio che Laura ci ha aiutato ad allestire, ricordiamo che per lo studio ringraziamo sempre Gulliver e Tiziano Donzelli, ma oggi ringraziamo anche Laura, che ci ha portato un sacco di cose belle ed è proprio quello di cui parleremo. Ma prima devi sapere che io ho questo librone nel quale c'è una specie di identikit per giorno di nascita. Wow, fantastico. Non per segno di nascita, ma proprio per giorno. E tu sei nato il 17 maggio, giusto? Esatto, sì. Allora, il 17 maggio è il giorno della ricerca delle basi, non mi chiedere cosa vuol dire perché queste definizioni sono veramente sibilline. Ti leggo le prime righe. I nati il 17 maggio hanno un approccio alla vita decisamente diretto e orientato ai principi fondamentali e in ogni situazione desiderano sempre partire dalle basi. Ecco cosa vuol dire. Sono celebri per le loro affermazioni semplici, ma spesso profonde, siano esse di carattere artistico, economico o politico e per il loro rifiuto di accettare inutili complessità o compromessi nelle loro idee. Bello? Direi che mi specchio in parte. Per cui se vuoi va avanti. E sono nati, come oggi, Enia, che è una cantante che forse, può darsi che ricordi, ma così, pseudonimo di Etienne, con un nome complicatissimo, e Eric Satie, che è un compositore pianista famosissimo per una trilogia delle Gimnopedie, che è una cosa molto bella, il pianoforte è bello, te la consiglio, e Comeini, la Yatollah Comeini, che insomma è stato protagonista di un pezzo di storia importante legato all'Iran, eccetera, eccetera. E zelante, responsabile e intensa sono i pregi. Ti ho fatto il quadretto? Sì, direi che in parte rispecchia. Allora, abbiamo aiutato anche i nostri telespettatori a conoscere un po' meglio Laura, che è qui con noi perché lei è titolare dell'angolo dei sogni di Laura. Esatto. Allora, la prima domanda è questa. Laura, quali sono i tuoi sogni? Allora, i miei sogni, ho realizzato, diciamo, questo sogno che avevo un po' nel cassetto, perché comunque sia sin da bambina ho sempre ritagliato degli spazi creativi, nella cameretta, un po' come tutti i bambini, no? Quindi dalla pasta di sale, crescendo al punto croce e via via, diciamo, nelle mode che si svilupparono durante gli anni, perché ogni anno c'è una novità riguardante il mondo creativo. In più ho anche avuto una maturità artistica, quindi ho proprio coltivato delle basi di studio. Sei diplomata al Megharoni, vero? Sì, esatto. E tu hai fatto da piccola, insomma... Un po' strocchiato. Tu dici come tutti, ma sai che non è vero, perché c'è anche chi fa altro, per cui già chi si comincia a dedicare in maniera seria e concreta a attività artistiche che non è la moltitudine, per cui già hai dimostrato, già da piccola, un'attitudine importante. L'hai continuata nella scuola, perché appunto hai frequentato il distrito di Megharoni. A livello scolastico sono sempre stata in continuo stimolo di colori, a seguire grandi artisti, e quindi ho fatto un bel bagaglio, diciamo, culturale nel mondo dell'arte. E nel frattempo, naturalmente, dovendo sopravvivere ancora con l'arte, non sopravvivevi, per cui hai fatto anche qualche altro lavoro. E' un hobby, era l'hobby quello artistico, poi il lavoro era ben altro. Poi l'anno scorso, col covid, il lavoro un attimo si è fermato, siamo stati tutti un po' in stand-by, e ho approfondito ancora di più quello che era l'hobby, perché appunto, chiusi dentro casa, c'erano poche alternative. E quindi un po' anche con le bambine ci siamo messi comunque a pastrocchiare, a fare, a creare cose diverse. E con l'anno nuovo mi son detta, buono, sono ancora un po' ferma, e cosa facciamo? Diamo una svolta, proviamoci, realizziamo questo sogno, e ho voluto aprire le porte di questo angolo, appunto, che mi son sempre ritagliata all'interno della casa, della mia famiglia, con il pubblico. Stiamo vedendo qualcosa già tra le immagini che ci hai mandato. Sì, l'ho voluto condividere, appunto, con altre persone creative, e perché no, far vedere anche chi è poco creativo, ma che si vuole avvicinare a questo mondo, appunto, dare un punto, no? Un punto di ritrovo, un punto di consigli. Tanto è vero che adesso vorrei iniziare, con la zona arancione, un corso one to one, uno a uno, in cui una persona può prendere un appuntamento e creare insieme quello che è l'oggetto. Oggetto in sé, sia dalla bombonierina o dall'oggettino, ma anche dall'oggetto di arredo. Quindi non solo l'oggettino creativo, che lo fai e lo metti nel cassetto, ma no, proprio a livello espositivo, di arredamento, fermaporte, ghirlande, centrotavola, infatti, non so, vediamo già anche qualche immagina monitor, appunto, per dare colore, che in questo periodo ce ne vuole tantissimo, e aiuta anche tanto. Diciamo che allora, te hai pensato a un certo punto di, visto che appunto, da una parte il lavoro stava un po' calando, dall'altra comunque quest'obby non l'hai mai abbandonato, insomma, una serie di congiunture favorevoli hanno fatto sì che tu prendessi, invece di fare, come hanno fatto in tanti, anche alle volte comprensibilmente, magari messi lì un po' a disperarsi, te hai preso il coraggio, due mani, hai detto, allora, sai cosa faccio io adesso? Io trasformo l'obby nella mia attività. Hai trovato uno spazio adeguato, questo spazio, lo diciamo subito, è in Piazza Redi, Piazza Redi 21, le foto che stiamo vedendo, sono prese tutte all'interno di questo tuo spazio, in Piazza Redi 21, che si chiama appunto l'angolo dei sogni di Laura, e che tu hai inaugurato, tra l'altro, mi viene da ridere, il giorno della zona rossa, per cui tu hai aperto quando è stato necessario il chiedere. Esatto, perché oltre a merceria creativa, merceria ovviamente in chiave moderna, perché tutto troverete tranne che bottoni e zip, quindi è una merceria moderna, si troveranno tessuti moderni, diciamo al passo di quello che è la creatività del momento. Lì quando hai aperto, praticamente tu hai aperto, ma essendo anche laboratorio, perché l'intuizione è questa, tu sei laboratorio, e invece di essere laboratorio da una parte, punto vendita dall'altra, hai unito le due cose. Ho unito le due cose. Per cui come laboratorio tu hai sempre potuto lavorare. Sì, sì. Come negozio, per cui la gente si affacciava lì, bussava. E infatti è stato molto, c'è stato questo impedimento che a malincuore mi mordevo le dita, perché volevo appunto far entrare queste persone nel mio mondo, cosa che stanno facendo adesso, e sono molto contenta, è stato molto apprezzato. Adesso da tre giorni, praticamente da lunedì, da martedì, da quando è partito, esatto, da martedì noi siamo in zona arancione, e il pubblico come ha reagito? Questo pubblico che sostanzialmente ti aspettava da tre settimane. Esatto, le persone che prima erano fuori dalla vetrina finalmente sono entrate e ho presentato tutto quello che è il mondo, il mio angolo, il mio sogno. Si domanderanno stamattina, visto che ricordiamo che siamo in diretta e tu sei qui e se sei qui non puoi essere là, si domanderanno stamattina se l'ha chiuso un'altra volta. No, no, rassicuratevi, non ha chiuso un'altra volta, è solo venuta qui, era sentito come avevamo concordato. Anzi, a volte quando il negozio è chiuso è anche perché tuttora faccio consegne anche a domicilio, gratuite all'interno di Pesaro, quindi può anche essere momentaneamente chiuso per quello, perché sono in consegna, offro tuttora questo servizio, perché vista la situazione, magari alcune persone, quelle più fragili o sensibili, che non se la sentono di spostarsi, io mi sposto volentieri per loro. Diciamo che nel male comunque della chiusura delle tre settimane hai trovato comunque una dimensione che ti è utile, perché è la dimensione del lavorare comunque con tranquillità e nel contempo nell'affrontare tutto il discorso dell'online, della condivisione dei contenuti anche social, io ho visto un paio di video che hai fatto. Sì, dei tutorial un po' per avvicinarsi. Esatto, a quel punto lì diciamo che chissà senza la zona rossa se fossi stata subito invadita da gente che voleva comprare se avresti avuto modo anche di affrontare questa cosa. Non lo sappiamo, però sappiamo che questa cosa sta funzionando, perché comunque la gente ti sta seguendo, non è solo affidato al caso e alla pubblicità, l'opportunità di passare dalle parti di Piazzarelli e di venirti a trovare, ma c'è qualcuno che ha cominciato a conoscerti prima di poterti vedere di persona. Un po' come ho fatto io come abbiamo fatto noi, no? Esatto. E adesso finalmente ti può venire a trovare. E quando viene il negozio, il negozio è grande? Il negozio è proprio un piccolo angolo dei sogni, è piccolino, è strutturato ovviamente in una parte laboratorio, che è quella che si vede, è una parte principale di ingresso dedicata più alla vendita, però ho voluto tenere aperti questi due ambienti da questa grande apertura, perché comunque sia mi piace far vedere anche quello che faccio, non solo mettere una porta e dire questo laboratorio, quindi è un unico piccolo ambiente unico. Hai in programma comunque di fare un lancio anche prima o poi, una specie di inaugurazione? Mi piacerebbe tanto, sì. Quello è in programma, vediamo, è in fase di elaborazione, però sì. Ma io guarda, ti dico una cosa che ho notato. Ho notato che anche in era pre-covid, anche in momenti diversi non legati a queste emergenze, si tende a tenere suddivisi due argomenti. Un conto è l'apertura, un conto è l'inaugurazione e potrebbero anche non coincidere anche in quanto a tempi, cioè non c'è una contraddizione nell'inaugurare magari un mese dopo di quando si è aperto, perché comunque l'apertura presuppone anche un certo settaggio dei ritmi, delle cose, quello che serve e tutto il resto. Quando c'era questa abitudine, che fino a qualche anno fa era imperante, di far coincidere l'inaugurazione ufficiale con l'apertura, era uno stress pazzesco, ti lo dico perché io ci sono anche passato, era uno stress pazzesco. E in più si rischiava magari proprio in quell'occasione di perdere anche delle vendite, perché c'era il momento dell'inaugurazione che era ovviamente molto invasivo. Allora, diciamo che forse è meglio adesso, è meglio che si tengano separate le due cose, sono tante attività che partono con l'apertura normale, si fanno conoscere, e poi c'è un momento in cui vogliono ufficializzare, istituzionalizzare questo momento importante, e lì si può costruire sopra una bella festa, contando anche su parecchia gente che ti conosce a quel punto, per cui si può mettere in piedi qualcosa. Immagino che questo potrebbe essere, vedo dai tuoi occhi che questo potrebbe essere un bel sogno, un altro dei sogni da mettere. Insomma, ti saremo al fianco naturalmente, come Rossini TV, se vuoi, in ogni momento, quando sarà l'occasione di. Adesso praticamente, passato il periodo della Pasqua, nel quale hai lavorato, mi dicevi parecchio, si sta andando verso altre occasioni di feste. Esatto, sì. Anche perché tu hai un lavoro che segue le stagioni, un po', me lo dicevi prima. Come la moda, come l'abbigliamento. Si segue, adesso superato lo scoglio della Pasqua, abbiamo la primavera, e l'avvicinarsi della festa della mamma, quindi ovviamente sempre vetrina in fiore, e magari soggetti, come possono essere delle ghirlande a forma di cuore. Cominciamo a far vedere qualcosa di quello che hai portato. Perché appunto sto preparando la nuova vetrina, e quindi abbiamo tutte queste ghirlande a forma di cuore. Ecco, perfetto, così si vede benissimo. Questa, tra l'altro, è un bellissimo. Come la definiamo questa? Questa è una ghirlanda intrecciata di lana imbottita, che è questo gomitolino qua. Questo è favoloso perché si possono ricreare tantissimi soggetti, sia ghirlande ma anche pupazzi e tantissimi progetti. Io l'ho utilizzata per creare questa ghirlanda a forma di cuore. Ci sono tantissime varianti di colori, c'è anche il rosa antico, il blu, appunto viene usato anche per dei fiocchi in nascita, dei progetti dedicati alle nascite. Molto carino anche il fermaporta in velluto, quindi qui abbiamo il tessuto di velluto termomodellabile anche, che viene utilizzato sia per ricavare vestiti di bambole, appunto soggetti come fermaporte, ma anche, perché no, per la creazione di fiori, fiori tridimensionali che io ho applicato in questa borsettina. Quindi c'è un utilizzo dei materiali veramente versatile, appunto, sia dall'oggetto di arredamento che dal piccolo fiorellino, alle bamboline, appunto, per l'abbigliamento di bamboline. E la particolarità, lo ricordiamo, è che questi materiali tu ce li hai tutti anche in vendita. Esatto, sì. Quindi sia per la realizzazione dei manufatti stessi che realizzo io per le vetrine, sia per chi appunto si vuole approcciare e realizzare gli stessi oggetti. Esatto. C'è gente che è capace? Cioè, ti è capitato già di avere a che fare con qualcuno bravo? Sì, ho clienti che appunto vengono già con le idee chiare e sanno già quello che vogliono, perché appunto sono già nel mondo creativo, però ho visto anche parecchie persone che mi stanno contattando e sono venute anche a trovarmi, che non hanno mai fatto nulla, ma che vogliono iniziare. Quindi è un settore comunque stimolante, che attira molto anche chi magari non si sente creativo. Vuol dire che sei bravo, perché quando qualcuno ha la sensazione che quello che fa qualcun altro sia facile, e che invece è facile, non è immagino, vuol dire che quel qualcuno è bravo a dare dimostrazione. Poi dopo quando ci si confronta con se stessi e si prova a fare quello che ha fatto quell'altro, la domanda viene di ma mi sembrava così facile quando lo faceva lei, invece non è facile per niente probabilmente. Ovviamente ci sono tanti step, però l'importante è partire. Una volta che uno parte, dal primo step, quello più basso, poi sperimentando, provando, ovviamente non ci si deve avvilire, non mi viene, per comunque sia, quando uno proverà uno, due o tre volte, poi il risultato lo avrà. E dà anche molta soddisfazione poi, perché dici, guarda, questo bel centrotavola l'ho fatto io. E quindi... Se non ci arriva, la possiamo comprare già fatto, perché tu comunque ce l'hai pronta. Sì, sì, sì. E se dici, l'ho fatto io, te chiaramente non li sbugiardi, dici, è vero, è vero, è una mia allieva, l'ha fatto lei, e invece chiaramente magari non è proprio così vero. Un'altra cosa che ho notato sulla tua pagina Facebook è questa idea del kit, che mi è sembrata geniale, perché tutto sommato, è vero, io posso anche avere un'intuizione, vengo da te, dico, mi dà un po' di questo, un po' di quello, un po' di quell'altro, come dal fruttarolo. In realtà, se tu mi dai tutto quello che serve, compresa anche quello che io non avevo pensato, non so, la matitina giusta per, eccetera, eccetera, mi fai un regalo, perché vuol dire che mi agevoli tutto quello che è la ricerca. Credo che questa sia una cosa abbastanza innovativa, poi, mi sa, credo, nel mondo appunto della creatività. È molto semplice appunto, anche per chi si vuole approcciare e iniziare a creare, avere già chiaro tutto quello che serve, perché poi magari se non hai il kit o non hai comunque insieme al kit un tutorial o un cartamodello, rischi di comprare tante cose e poi dici adesso cosa faccio, entra il panico, oddio, da così inizio. Invece, con il kit, con comunque sia video tutorial che vengono pubblicati, sia dagli aziende stesse, perché anche le aziende stesse con cui collaboro, danno veramente tanto anche a chi acquista, non solo a noi negozianti. Sì, anche noi negozianti che quando realizziamo un qualcosa facciamo anche vedere come si realizza, allora magari uno può andare a rivedere quel passaggio che magari è poco chiaro e quindi poi viene tutto più semplice. Tu ti ispiri anche a tua volta a queste indicazioni, a queste tracce, oppure hai anche delle specializzazioni tue, delle cose, degli oggetti proprio tuoi di cui ti senti l'artefice assoluta, insomma? Io seguo molto anche le aziende perché è un po' come nella moda, c'è la tendenza dell'anno e quindi si cerca di seguire questa tendenza perché ovviamente oltre a tendenza c'è anche il materiale innovativo, la novità e quindi si seguono dei corsi di formazione, quindi sempre in continuo aggiornamento però poi quando lo vai a realizzare qualcosa di tuo ce lo metti sempre perché io non vuoi magari dici no questa cosa mi piace il progetto però tipo mi piace farlo di questo colore voglio provare a cambiare il materiale non mi piace il velluto voglio la garzina leggera perché lo voglio rendere più leggero e quindi un po' di personalità si mette, sì. La regia mentre parlavamo ha mandato in onda diverse foto di quelle che tu ci hai fornito, no? e noi le abbiamo lasciate scorrere senza troppo commentarle ma se ce n'è qualcun'altra adesso non so se sono state mandate tutte le volevo commentare con te così ci dici anche esattamente di cosa si tratta. Questo ad esempio è un cartamodello che aiuta in maniera molto semplice a realizzare i fiori che si vengono poi applicati sulla ghirlanda quindi proprio con una pennina evanescente che va a svanire in 24 ore quindi il tessuto poi rimane bello pulito si va a ripassare tutto il contorno del fiorellino e quindi non abbiamo dio non riesco a fare a tagliare preciso il fiorellino è la tua forma la ritaglia e quindi viene un fiore veramente perfetto e viene poi modellato e lavorato con strumenti appositi in maniera molto semplice qui invece cosa dobbiamo? questa è una ghirlanda pasquale a forma di uovo sempre decorata con dei fiori in tridimensionalità sfumati appunto per creare più più volume queste sono delle idee di bomboniere sì perché si realizzano anche bomboniere su richiesta aggirandola girano? infatto no quelle no fiori quindi fiori di pannolencio di tessuti morbidi e con apposite fustelle anche di ritaglio perché poi ci sono anche strumenti un po' più professionali che ti aiutano a velocizzare il lavoro quindi non più a ritagliare a forbici sì hai anche praticamente tutto cioè uno può entrare senza avere niente qualcosa più semplice a quella più articolata ecco sì appunto per dare la possibilità a chi vuole cominciare e anche di far trovare dei materiali a chi è già un po' più di step avanzati questo era San Valentino questa è un'altra cosa che va bene per sempre sì San Valentino ma questo insomma San Valentino oppure anche pensato per degli sposini magari in chiave avori o panna perché no sì sì bellissimo vediamo qualcos'altro questo questa era sempre un'immagine primaverile con trucchi occhietti del coniglietto vengono tutti decorati a mano anche quelli perché il trucco non si usa solo per noi ma anche per sì questa è una panoramica creativa cos'è una delle aziende creativa è una delle aziende con cui collaboro sì principalmente mi piace molto comunque il tuo è una diciamo attività autonoma non sei in franchising non hai una no è autonoma tu sei autonoma e hai fatto la tua scelta di aziende con cui collaborare i materiali con cui lavorare e su quello hai costruito poi la realizzazione dei sogni insomma questa è aziende che in parte conoscevo anche perché poi nel gruppo di amiche creative ci si confronta sempre sull'azienda migliore o magari quell'azienda lì ha questo tessuto ha questo prodotto e quindi il mondo creativo è bello anche per quello perché poi si creano anche dei legami di amicizie incredibili poi immagino che ci sia un mondo di retrofieri di settore di questo genere quando il mondo tornerà a essere normale infatti una cliente mi ha detto ma quanti materiali devo comprare ha fatto non te li saprei quantificare perché sono infiniti veramente certo certo e anche qui credo che le nuove tecnologie abbiano dato comunque molto molto aiuto alla ricerca di nuovi materiali parlo di tessuti speciali altre cose tessuti non tessuti tutto questo mondo tessuti appunto tipo il velluto il velluto di cui parlavo prima che è termomodellabile uno pensa al velluto ma come lo posso termomodellare sì perché magari scaldando scaldandolo con la piastra del ferro d'astriero e mettendolo tra un positivo e negativo di forma mantiene la forma e quindi il tessuto piatto prende vita certo quindi sono proprio tessuti innovativissimi a proposito di mascherine ancora non l'hai prodotta per una mascherina ancora no sai ancora no ma non ce l'avevi pensato oppure basta la lasci fare agli altri usi quello che ti ha prodotto effettivamente diciamo in tanti si sono buttati a parte che poi quando ho cominciato a essere ovviamente obbligatoria e diffusa ho scoperto che esisteva già un oggetto di moda c'erano queste mascherine che hanno sfoggiato anche sì si vedevano magari nei grandi concerti delle star americane un po' come no tutti di gioielli mi viene in mente madonna o ledy gaga sì sì esatto michael jackson esatto sì 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 erano un vezzo e chiaramente loro non le sfoggiavano quelle banali c'erano tutte queste griffate e adesso insomma è diventato un obbligo per tutti per cui c'è stato un bel rilancio forse mi viene in mente più che farle proprio una personalizzazione chissà vedrei chissà se da qui non nasce qualcosa e non viene lanciata qualche idea qualche proposta allora senti noi siamo quasi in conclusione ribadiamo questa idea appunto di raggiungerti adesso finalmente anche fisicamente in piazza Redi che è molto importante perché poi come la presenza non c'è dai parliamoci chiaro è la cosa migliore che si può fare però per chi comunque ancora ha difficoltà a muoversi deve venire da fuori eccetera c'è questa grandissima risorsa dell'online e la online parliamo di pagina Facebook o è altri strumenti pagina Facebook Instagram quindi sono entrambe sempre aggiornate di progetti tutorial appunto anche promozioni ricordiamo che è l'angolo dei sogni di Laura di Laura questa è la definizione esatta poi cercate la trovate insomma la riconoscete e nei tutorial sei senza mascherina comunque sicuramente sì a volte sono sola o con congiunti quindi tutto in totale sicurezza benissimo anche i corsi ovviamente quelli con mascherine quello è d'obbligo per i clienti sì sugli ordini e sugli acquisti sei attrezzata anche per fare le consegne sì si a spedizioni al di fuori del comune di Pesaro in tutta Italia a Pesaro invece come parlavo prima gratuitamente offro questo servizio gratuito questa spinta forte a invogliare la gente a provare che se uno dice dal punto di vista del commerciante commerciante è quello che ti vuole vendere le cose ma tu non sei solo commerciante sei appassionata e sei una che le cose le fa e che gioisce del vedere che tanti altri si approcciano anche perché in quel caso lì gli vendi il kit per cui qualcosa comunque da proporre ce l'hai non ti cannibalizzi il tuo mercato se qualcun altro si mette a fare no entrambe le possibilità e appunto comunque il mio scopo è quello di di far conoscere questo mondo a chi non lo conosce quindi non è solo la ventità dell'oggetto ma di fargli capire tutto quello che c'è anche dietro che è un è un bellissimo lavoro e chiudo con una domanda che mi era venuta l'avevo già anticipata perché mi era venuta quando parlavamo al telefono perché naturalmente con gli ospiti soprattutto quelli che conosco meno o che non conosco per niente una piccola chiacchierata telefonica preliminare ci sta solo clientela femminile o c'è anche qualche ometto che si avvicina a questa cosa che poi è un lavoro di manualità per cui non ci dovrebbero essere motivi di preclusione ma allora sotto Pasqua ha effettuato ordinazioni anche per clientela maschile non di kit ma a livello di manufatti da regalare però apro l'opportunità anche al mondo maschile perché perché no comunque il mondo creativo non è che ha distinzioni di nessun genere quindi volentierissimo per chi si vuole approcciare a questa a questo mondo volentierissimo bene fino ad oggi no ma se volete essere i primi sappiate che siete i benvenuti questa è la novità oltre naturalmente a tutti a tutti quelli a tutte quelle che già sono tue seguaci affezionate e che lo diventeranno ancora di più dopo questa nostra trasmissione c'è qualcos'altro che non hai presentato tra gli oggetti penso di no le stoffe forse sono i pannolenci tessuti appunto per la realizzazione di tantissimi progetti come quello che ho utilizzato per la realizzazione dei fiori perché i fiori si è in velluto i fiori anche in gardato ma anche in pannolencio che è un tessuto comunque molto morbido e leggero si possono realizzare anche ovviamente bamboline il pannolencio qui l'ho utilizzato per il cappellino tutto il resto è tulle e anche il visino decorato a mano vendi anche dei piccolissimi aspirapolvere no perché quando vedo queste cose mi viene in mente che un po' falletta potrebbe essere il gadget da approfondire dei piccoli aspirapolvere per tenere sempre pulito tutto quanto perché questa è la parte poi importante Laura io ti ringrazio veramente tanto se anche i nostri telespettatori questa puntata ha fatto lo stesso effetto che ha fatto a me ti verranno a trovare perché io che tra l'altro abito lì vicino sicuramente te verrò a trovare a scoprire il tuo angolo dei sogni grazie ancora grazie a te Paolo ci si aggiorna ci si vede in base alla stagionalità quando avrai qualcosa di nuovo da portarci a far vedere mi raccomando noi ci siamo allora a questo punto noi andiamo in pubblicità prima del prossimo ospite ma prima della pubblicità qui la nostra Allegra mi dà un papier enorme nel quale il sondaggio allora il sondaggio quello di Pasqua eccetera vuoi sapere come è data a finire definitivo 91 e 9% 91 hanno fatto in casa il loro pranzo di Pasqua e il 9% l'hanno ordinato al ristorante naturalmente parliamo di numeri nostri insomma quello di oggi ti viene bene perché la primavera vince col 70% per adesso abbiamo ancora qualche ora online ma la primavera è sull'autunno per cui va bene la stagionalità abbiamo voglia di sole speriamo ringraziamo tutti quelli che ci seguono ci sono un po' di nomi di qualcuno che ci aveva mandato qualche segnalazione via social Yvonne Stefania Vilma Maria Pia Giovanni Raffaele ricordiamo che naturalmente la prossima settimana noi saremo in diretta di nuovo lunedì 12 ma il mercoledì mercoledì 14 aprile avremo con noi Roberto Bartolini che per capirci io lo definisco grafologo ma è molto di più che un grafologo e che ci ha chiesto di fargli avere per poi illustrarci quali sono le sue tecniche di indagine dei brevi testi per cui se avete voglia di scrivere 10 righe e poi metterci sotto il nome il cognome non c'è bisogno il nome e una data di nascita in modo che lui possa fare un collegamento che poi ci spiegherà ce li potete mandare attraverso appunto casarossini chiotterossintv.it oppure 351 708 9977 ben fotografati mi raccomando o meglio ancora sarebbero scannerizzati e a quel punto noi li inseriremo nella puntata di mercoledì 14 aprile o in una delle prossime perché comunque Roberto è uno degli ospiti ricorrenti nella nostra trasmissione siamo a posto? Allora possiamo andare in pubblicità Laura ancora grazie e a presto a prestissimo veniamo a scoprire il tuo angolo dei sogni grazie restate con noi eccoci qua mi riconoscete sono sempre io niente questa battuta vi viene non c'è niente da fare allora siamo ancora qua e siamo con il secondo ospite della giornata non l'abbiamo preannunciato prima perché volevamo che fosse una sorpresa per tutti sorpresa è Antonino Di Gregorio eccolo qua ciao buona giornata grazie Paolo per avermi invitato di nuovo allora ricordiamo che queste presenze di Antonino Di Gregorio hanno molte radici in realtà la principale è che siamo amici e parliamo di libri ma c'è anche un discorso legato a Rossini TV come si vede dall'inquadratura grande Pesaro Città che legge Rossini TV è una firmataria del patto Pesaro Città che legge e questo tuo intervento qua con noi ha anche significato in quella direzione cioè è il contributo che Rossini TV dà alla causa di Pesaro Città che legge che è questa attribuzione che il Cepel dà alla nostra città che anche io come Parole d'Arancio sono firmatario del patto quindi ovviamente chi divulga essendo appunto Pesaro Città che legge insegnita di questa cosa perché divulga la lettura e chi come noi che parliamo di libri praticamente tutti i giorni ogni volta che ci sentiamo se non facciamo almeno due parole su un libro non siamo contenti quindi chi divulga questo tipo di esperienza e poi chi cerca di lavorarci quotidianamente con i libri in libreria facendo presentazioni eccetera eccetera non può non farlo infatti guarda avevo l'imbarazzo della scelta vedo vedo dopo ce ne ho tre anch'io perché volevo parlarti allora ok va bene facciamo così dimmi tu come vuoi partire guarda parti pure parti pure e andiamo visto che facciamo sempre un punto sulla classifica quando mi inviti anche se è una classifica estemporanea perché è solo di qua e di là ti dico subito che intanto mi sono dimenticato di prendere il primo e il quarto però ho preso il secondo il terzo eccetera allora la classifica di settimana scorsa è stranissima perché ha alle prime tre posizioni dei thriller dei noir il nuovo di uscito quello appunto che mi sono dimenticato di Robecchi che si intitola Flora appena uscito primo posto poi invece l'ho portato perché questo l'avevamo già visto in una puntata precedente a distanza di mesi è ancora secondo in classifica quindi è ritornato dopo essere andato giù poi è ritornato su e questa cosa mi fa tanto sorridere magari potrebbero non averlo ah sì scusami hai ragione qua Gianrico Carofiglio Gianrico Carofiglio la disciplina di Penelope e invece il primo classificato era appunto Alessandro Robecchi con il suo nuovo che è Flora poi terzo in classifica Alessia Gazzola con il suo nuovo libro quindi anche lei abituale scrittrice di thriller ma questa è una storia strana ambientata nell'ottocento inglese e si intitola me lo sono segnato perché questo non me lo ricorderò mai Un tè a Chaverton House che ragazzi scusatemi ma questo titolo non mi rimarrà mai in testa dopodiché quarto posto entrato questa settimana il libro appena uscito e questo è un caso curioso lui è Valerio Lundini era meglio il libro è un caso curioso perché è bellissimo lui racconta è una raccolta di racconti che lui fa in cui ci fa ragionare sui modi di dire legati ai film ai libri alle storie eccetera e ovviamente il libro esce adesso che lui sta avendo un discreto successo per Rizzoli ed è subito arrivato in classifica perché ormai qualsiasi cosa lui faccia la gente ne vuol parlare ne vuol sapere vogliamo ricordare che è Valerio Lundini per chi non lo sapesse io lo conosco come conduttore televisivo ma ne so poco di più lui fa soprattutto oggi fa quello ma è anche un musicista è da dieci anni che per esempio quando si poteva perché ormai questa cosa qua la diciamo tutti da dieci anni che andava in giro per i pub i locali a suonare rock anche di buon livello tra le altre cose è anche comparso all'ultima edizione di Sanremo come affiancando non mi ricordo quale contante mi sembra Willy 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 Peiote che nella canzone nella rivisitazione della canzone di Lorenzo Giovanotti in cui c'è stata quella gran polemica perché ha cambiato i versi del ritornello rappato e lui scrive però anche questo non è il suo primo libro e quindi è un personaggio diciamo pubblico che ha sempre fatto cabaret queste cose qua era meglio il libro era meglio facciamolo vedere poi il titolo non si vede bellissimo Valerio Lundini gigante esatto Valerio Lundini gigante e poi il titolo era meglio il libro tra le altre cose sponsorizzato da uno che abbiamo già avuto qua come i libri Nino Frassica che credo che sia uno dei suoi personaggi televisivi preferiti in questo momento tra l'altro mi fa venire in mente questo titolo una citazione che è una di quelle che a me mi fa più ridere di tutte è una battuta non so di chi è non me la ricordo che dice ci sono film che era meglio il libro ci sono libri che era meglio l'albero è bellissimo questa è veramente molto bella poi al quinto posto c'è questo libro che è una giovane scrittrice blogger italiana che adesso vive da qualche tempo negli Stati Uniti e fa avanti e indietro dagli Stati Uniti all'Italia Annalisa Menin il traghettatore cuore in transito è una storia qualcuno la definirebbe leggera a me non piace mai definire una storia leggera perché ogni storia noi lo diciamo sempre dipende da quali corde muove in ogni persona che legge il libro lei racconta semplicemente di una storia di persone che attraversano la tua vita e quindi ti portano da una parte all'altra per questo il traghettatore cioè non per forza lei dice in questo libro ci sono persone che arriveranno nella tua vita e si fermeranno a lungo magari si possono anche fermare solo degli istanti però ti aiuteranno a fare un percorso di vita poi ovviamente pieno di cuori perché sapete che quando ci sono questi titoli quando ci sono queste giovani autirici giovani perché rispetto a me è giovane domenica ne faccio 50 quindi i cuoricini però il cuore secondo me questa copertina ed è un altro degli argomenti che trattiamo di solito per me è fuorviante perché ti porta verso la storia d'amore ti fa immaginare la storia d'amore chi non vuole leggere una storia d'amore non leggerà questo libro e secondo me si perde un bel libro perché è veramente una bella storia è per quello che noi facciamo questa trasmissione la facciamo in questa logica qui anche per risolvere dei piccoli equivoci in partenza per dirimere delle controverse in partenza Annalisa Menin Il traghettatore Cuore in transito ah questo è un altro dei bellissimi argomenti i titoli infatti una volta invece di parlare di libri parleremo di tutte queste curiosità se avrai voglia i titoli i sottotitoli alla fine Cuore in transito gliel'hanno dovuto mettere per forza ma non era necessario secondo me Il traghettatore forse aveva già un impatto totalmente forte Esattamente Poi se il concetto è quello che appunto come mi hai appena confermato è un concetto che io condivido molto perché quest'idea appunto del periodo comunque definito nel quale si può anche camminare insieme magari anche trasportati non è male insomma tutto sommato la non definitività degli intrecci delle vite forse sarebbe una cosa un concetto da scoprire Sono assolutamente d'accordo con te quando parliamo di questa cosa io e te ci confrontiamo e sono d'accordo ci sono persone che nella vita non rimarranno per sempre e va bene così ed è il loro ruolo e questa cosa qua nel buddismo si chiamano anche i bodhisattva quindi queste cose qui molto interessanti per me è quanto meno vi voglio parlare di due libri di sport questo dico due parole basta ma non potevo non portarlo non posso non portare libri che parlano di Michael Jordan è uscito da pochissimo per Salani editore e si intitola Air la storia di Michael Jordan vabbè non c'è niente altro da dire prendetelo da David Elberstam che è un piccolo scrittore ha vinto solo il Pulitzer per lo sport quindi niente di che ma la cosa divertente è che questo libro è uscito da noi sulla scia della serie che è poi un docufilm una docu serie The Last Dance che è uscita l'anno scorso ma questo libro esiste già negli Stati Uniti da 3-4 anni quindi arriva da noi adesso ma esisteva già comunque è la biografia se vogliamo tra le più riconosciute di Michael Jordan dico sempre Michael Jackson Michael Jordan non so perché altro altro libro invece sportivo questo è molto interessante questo ci tengo in particolar modo a farvelo vedere perché uno perché lo presento settimana prossima quindi così vi dico venite sulla pagina di Mondadori Bookstore Pesaro settimana prossima mercoledì alle 19 mercoledì 15 alle 19 perché ci sarà Sheriff Karamuoco con Giulio Di Feo non so se ci saranno tutti e due o uno o l'altro Sheriff Karamuoco Salvati tu che hai un sogno edito da Mondadori è la storia secondo me da leggere e perché ti giuro veramente è da leggere perché è la storia di un ragazzo che parte dalla Guinea sopravvive alla guerra la madre muore di Ebola il padre muore durante la guerra lui e il fratello decidono di lasciare l'Africa e prendono uno dei barconi della salvezza naufragio lui e il fratello sono in mezzo al mare e il fratello gli dice dandogli il salvagente salvati tu che hai un sogno e lui a proda in Italia a proda in Italia centro non mi ricordo mai come si chiamano i centri di accoglienza in Calabria lui conosce i diritti e fa un po' di casino perché in quel centro di accoglienza dove è stato ospitato non sono proprio rispettate tutte le norme umanitarie diciamo così davanti al giudice vince la causa e viene mandato in provincia di Padova in provincia di Padova si accorgono che gioca a calcio molto 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 bene e viene assunto diciamo così o comunque acquistato dal Padova a calcio in serie B e allora se non è questa la storia interessante da leggere e infatti non vedo l'ora di averlo con me settimana prossima per parlarci e in tutto questo lui ha solo 20 anni cioè quindi stiamo parlando di un ragazzino tra virgolette se pensiamo che tra me e lui appunto ce ne sono 30 e lui ha già visto tutta questa vita che forse io non vedrò mai per fortuna per essere nato da questa parte del mare e quindi Sherif Caramoco con Giulio Di Feo scritto da Giulio Di Feo penna della Gazzetta dello Sport salvati tu che è un sogno di Mondadori dimmi tu il tempo perché si si no con i tempi siamo tranquillissimi siamo tranquilli oggi no ti chiedevo solo una cosa anzi una sottolineatura tu hai detto che lo presenterai e in questo periodo ti vedo imperversare abbastanza sul web e vogliamo dirle queste cose no no diciamole perché un po' dietro lo slancio di Pesaro Città che legge un po' a causa della pandemia che ci ha costretti in casa ci stanno stanno proliferando opportunità di incontri con gli scrittori anche favorite dalle case editrici di incontri online con gli scrittori e tu stai diventando uno dei protagonisti nazionali di questa cosa perché ogni tanto non riesco più a seguire quando facevi solo le presentazioni in libreria ci venivo ma adesso è diventato quasi impossibile però se avete voglia di seguire i vari momenti ce ne sono veramente tanti alcuni addirittura di importanza e di rilievo come questo ma sono tutti importanti però diciamo in certi casi anche delle piccole gemme che brillano devo dirti che le ultime presentazioni e grazie intanto per averlo detto abbiamo fatto delle presentazioni sulla pagina di Pesaro Città che legge le avevamo già citate le ultime da tre settimane a questa parte le sto facendo sulla pagina della libreria perché continuo a collaborare con la libreria Mondadori Bookstore di Pesaro e abbiamo fatto la presentazione di una thrillerista molto nota Marina Di Guardo tre settimane fa la settimana scorsa c'è stato Federico Baccom che ha scritto un libro bellissimo secondo me che si intitola Che cosa c'è da ridere nel quale racconta la storia di tutti quegli artisti dell'epoca dell'epoca del dopoguerra del durante la guerra scusatemi dei campi di concentramento tutti quegli artisti e ce ne sono stati veramente tanti che per i quali la loro vita dipendeva la loro salvezza dipendeva da come era andato uno spettacolo cioè artisti chiamati artisti ebrei chiamati a tenere spettacoli per i loro aguzzini e da come andava lo spettacolo il giorno dopo probabilmente avevano salva la vita o meno e Federico Baccomo ha fatto una ricerca ci ha raccontato durante la presentazione di due anni per capire come stava andando questa cosa in che direzione andava il libro è molto bello lo ripeto non l'ho portato si intitola Che cosa c'è da ridere Federico Baccomo tra le altre cose lui ha già scritto diverse cose scrive per il cinema il suo primo libro era studio illegale dal quale poi è stato tratto il film la gente che sta bene dal quale poi è stato tratto il film eccetera quindi è una persona che fa delle ricerche e ci racconta storie con la sua cifra perché lui poi è abbastanza ironico ma attraverso il sorriso ci fa arrivare sempre storie che tu dici oh madonna ma è successo davvero questa cosa quindi sì grazie per questa cosa poi chiacchiero di libri perché anche ieri lo scrivevo e lo dicevo con amici oh io chiacchiererei di libri tutti i giorni l'obiettivo secondo me è importante e va chiarito perché altrimenti sembra solo sì vabbè voi siete appassionati parlate dei fatti vostri e noi perché dovremmo starvi a sentire allora c'è un motivo molto semplice per cui questi strumenti sono importanti il motivo è un numero 80 quante sono 85.000 nuove pubblicazioni all'anno sì sì allora a fronte di 85.000 nuove pubblicazioni all'anno quando dico nuove vuol dire che si aggiungono a quelle dell'anno prima e dell'anno prima ancora e dell'anno prima ancora 85.000 nuove pubblicazioni all'anno chiaramente sono un mare nel quale è necessario orientarsi questi strumenti che noi offriamo come questi incontri come gli incontri online come altri strumenti che non solo noi ma tanti altri propongono hanno questo obiettivo semplicemente dare così uno strumentino una bussola per cercare di orientarsi e per cercare di azzeccare non solo l'acquisto ma anche perché no il prestito in biblioteca perché poi non è che parliamo di questo non parliamo necessariamente di investire bene i propri 15 18 20 22 25 euro nell'acquisto del libro anche semplicemente di andare in biblioteca sapendo cosa scegliere allora vale tutto vale il consiglio del bibliotecario vale il consiglio del libraio vale tutto vale anche questo questo è un po' il motivo e ti vorrei fare una piccola pausa perché ho tre libri ti ho portato tre libri anch'io quanto è bello quanto è bello quando c'è questo scambio di uno ci tengo particolarmente a parlare perché questo è un libro che apre un discorso sulle autobiografie è un libro di Gianfranco Battistoni un nostro concittadino che adesso non c'è più e che ci è stato portato dalla sua famiglia abbiamo dei contatti con la sua famiglia tra l'altro io conoscevo lui e conoscevo e conosco in particolar modo uno dei figli Marco questo è un libro che racconta una vita una vita di un concittadino di un pesarese e naturalmente la racconta dal suo punto di vista personale dedicando più o meno spazio a momenti che per lui erano più o meno importanti parte da quando era piccolo quando era piccolo poi c'è stata la guerra tutto il discorso della guerra chiaramente è un libro che ha un valore documentale non necessariamente può essere considerato un valore letterario e non necessariamente neanche tutto sommato narrativo ma un valore documentale perché racconta fatti veri li documenta con immagini con foto con scansioni loro avevano un'attività di mobili e c'è la scansione di una fattura di una cameretta venduta 28.000 lire capito cioè è anche divertente per quello ma la cosa divertente è che poi leggendolo ognuno estrapola quello che è la come posso dire l'analogia di periodo mio padre l'ha letto chiaramente ci ha trovato analogie molto forti nel periodo della guerra il quartiere pantano magari io lo leggo ci trovo cose diverse legate all'attività perché comunque era uno sponsor di una radio dove io lavoro insomma ognuno ci trova il pezzo suo e questo è il valore di queste operazioni perché te sei fatto così questo è il titolo e tra l'altro la frase è bella perché praticamente era una frase che dicevano sempre a lui dai sì ti è successa questa cosa drammatica ma non è poi così grave perché te sei fatto così sei uno che minimizza lui diceva sì ho capito io minimizzo ma ragazzi qui la cosa ha un peso Gianfranco Battistoni pubblicato da Metauro e questa cosa mi ha fatto venire in mente subito che io avevo un libro da tanti anni dal 93 di Giuseppe Pontigia che si chiama Vite di uomini non illustri hai capito poi sei passato da un localissimo a uno molto noto direi e l'esperimento qui letterario squisitamente letterario di Giuseppe Pontigia qual è stato? è stato quello di inventare sostanzialmente in forma di mini biografia delle vite ovviamente inventate di persone che non avevano niente di rilevante da raccontare ma se non la loro vita e questo è un esercizio letterario bellissimo molto divertente Vite di uomini non illustri come vedete propongo e proponiamo anche cose questo è del 93 costava sempre perché diciamo che il libro non ha scadenza costava n.000 lire 27.000 lire costava e così da sfogliare da guardare da leggere da capire anche questo soprattutto per capire come si scrivono le cose poi questo tema dell'autobiografia è molto di attualità in questo momento esiste la Libera Università di Anghiari che si dedica particolarmente questo discorso dell'autobiografia e delle biografie in generale il ritorno dei ricordi della memoria quello che ci tengo a sottolineare però è che da una parte abbiamo dei contenuti ognuno di noi ha dei contenuti da raccontare dall'altra abbiamo delle qualità di esposizione per cui qualunque vita interessante se ben raccontata un po' come tutto quello che io sempre propugno e tra queste chiudo con questo libro che invece mi è stato portato da Alberto Giuliani Alberto Giuliani è stato nostro ospite è il fotografo che ha realizzato le famose fotografie all'interno del San Salvatore che poi hanno girato il mondo e hanno prodotto una serie di risultati positivi lui è anche scrittore è scrittore giornalista fotografo quel libro sta girando anche parecchio è un narratore di storie e lui dà un pretesto simile a quello di Tiziano Terzani a cui avevano pronosticato una morte se prendeva l'aereo in certi periodi a lui invece gli dicono che morirà intorno a 45 anni parte lui con una ricerca particolare che è la ricerca dell'immortalità in questo ripercorrendo un po' le tracce anche descritte in un altro libro di O'Connelly che è Essere macchina che lo stesso fa un bel giro eccetera molto interessante è narrato in prima persona chiaramente un pezzo di biografia personale insomma in un momento poi scritto in un momento in cui teoricamente era vicino alla morte non è morto perché era qui per cui evidentemente la profezia non è andata no ma lo rifai vedere perché quel libro ne stanno parlando ma io non ce l'ho non l'ho ancora iniziato ma è uno di quelli che voglio iniziare prossimamente gli immortali è quello che sto leggendo in questo momento gli immortali Alberto Giuliani storie dal mondo che verrà hai parlato di guarda faccio in serio pubblicato da Il Saggiatore e infatti quella quell'edizione lì è una quella casa editrice è una delle case editrici alle quali si fanno più complimenti per la cura delle pubblicazioni e quindi poi mi dirai tra le altre cose i loro libri costano anche leggermente un pochino devo dire che ringrazio Alberto perché me l'ha regalato ringraziamo Alberto che me l'ha regalato hai detto questa cosa e io avevo portato questo libro ma che avevo tenuto poi se si avanza del tempo ma visto che l'hai detta ne prendo la palla al balzo lei è Rossana Campo è una scrittrice piuttosto riconosciuta in Italia scrive da molti anni con Giulio Perron editore alla fine dell'anno scorso è uscito questo libro che si intitola scrivere è amare di nuovo e lei tiene dei corsi di scrittura biografica quindi quello che dicevi tu sì vogliamo raccontare la nostra vita ma c'è anche un modo per raccontarla lei ovviamente in questo libro che è solo un piccolo saggio ci dà delle tracce diciamo così dei modi in cui per esempio sproloquiare non ha mai non ha mai senso e poi come dicevi tu prima quando si scrive un'autobiografia quindi o autofiction come si dice ultimamente è inutile che mi racconti ogni minimo particolare perché tanto io non empatizzerò con tutto quello che tu hai vissuto ci saranno cose che potrò avvicinare alla mia esperienza e cose che invece non avranno niente in comune quindi e poi quella cosa che ci diciamo spesso io e te uno scrittore secondo me quelli che arrivano di più fanno l'80% del percorso almeno o magari anche un po' meno al 70 al 75 poi il resto è il lettore che lo deve fare mettendoci dentro del suo non so quanto tempo ci rimane andiamo che bello oggi è bellissimo sì perché sei con due occhi abbiamo un po' più di tempo pur avendo deciso di finire puntualissimo e forse anche qualche minuto prima possiamo allora faccio adesso parlo di questo che mi sta molto a cuore è un argomento che in questi giorni viene molto discusso per via di tutte le polemiche che ci sono eccetera eccetera ma io non voglio polemizzare voglio semplicemente dire che Matteo Bussola che è abbastanza noto ormai in Italia e ogni libro che ha scritto ha venduto tantissimo a partire dal dal suo primo dalla sua prima raccolta di scritti che partiva da Facebook lui poi il suo ultimo era l'invenzione di noi due un romanzo appunto nel quale raccontava di una storia d'amore che poteva essere una storia che finiva ma che invece poteva essere anche recuperata Matteo ha voluto scrivere questo libro ed è il suo primo per bambini ragazzi illustrandolo anche quindi sia l'illustrazione di questa copertina che l'illustrazione della seconda copertina sono sue illustrazioni e poi all'interno tutte le immagini tutte le illustrazioni che troviamo sono sue illustrazioni il libro si rivolge ai ragazzi e le ragazze dai 6 7 ai 90 intanto lo apro e lo apro a caso ve lo faccio vedere a me piace molto perché per la prima volta è scritto in blu ed è scritto grande non c'è la giustificazione sul lato esterno a destra e questo libro è stato stampato con quella volontà di farlo leggere anche a chi ha problemi di lettura i dislessici fanno fatica a leggere il giustificato e il carattere è volutamente così più grande e con l'interlinea distanziata perché coloro che hanno difficoltà a leggere i libri stampati normalmente con questo libro hanno una facilitazione e questa è una cosa che mi piace molto infatti è una delle cose che io non riesco ancora a comprendere del perché non si diffonda questo modo di stampare di pubblicare perché così risolveremmo parte dei problemi di chi ha problemi a leggere l'argomento è molto interessante perché è un padre che dialoga con la figlia la figlia che gli chiede vi leggo la quarta di copertina gli chiede semplicemente questa cosa papà io non la capisco questa cosa dei posti dei maschi e i posti delle femmine dice Viola perché dobbiamo avere un posto non è più bello se tutti vanno dove vogliono e il padre risponde ma tu puoi andare dove vuoi Viola solo devi mettere in conto che a volte qualcuno si sentirà in diritto di dirti che hai sbagliato strada o che quel posto non ti spetta ma tu non glielo devi permettere mai e praticamente Viola questa bambina questa ragazzina il suo colore preferito è il blu quindi Viola è il blu lei scrive tutti i colori con la lettera maiuscola perché secondo lei i colori sono nomi di persone e quindi ognuno deve avere il proprio come ogni persona deve essere se stessa né più né meno e questo libro secondo me era il libro del momento ci voleva e infatti non a caso grazie anche a tutti coloro che hanno letto i suoi precedenti libri in due settimane tre settimane che è uscito questa è la terza settimana di uscita e siamo già la quinta ristampa e quindi sta vendendo veramente molto ma non era quello che mi interessava mi interessava portarvi questo messaggio questo libro secondo me è veramente da leggere a tutte le età senza entrarci nella polemica ha a che fare con i social naturalmente una cosa che lui aveva scritto sì non solo ma non la sua polemica in particolare io dicevo la polemica fatta sul catcalling sulla posizione delle donne sul libro di Michela Murgia sul stai zitta eccetera questa cosa qua lo volevo sottolineare solo per dire che insomma la polemica era su questo poi adesso te la dico no perché in questo caso parliamo di scrittori molto dentro la vita di tutti i giorni questo è un aspetto importante che non si chiamano fuori non stanno nella loro torretta a scrivere e basta ma sono coinvolti nella vita quotidiana come autori ma anche come genitori come educatori come tutto quello che poi fanno nel resto della giornata quando non sono lì a scrivere e a pubblicare lui conduce anche una trasmissione radiofonica su Radio 24 ogni domenica insieme a Federico Taddia che si intitola I padri eterni ovviamente tutti e due sono padri e quindi raccontano e si confrontano con la genitorialità io li ascolto spesso sebbene io non sia genitore perché mi interessa proprio quello che hanno da dire e quello che i loro ascoltatori di solito dicono quello che dicevi tu lui non si è mai tirato indietro e ha una comunità molto forte anche sulla rete e non lascia correre faccio questo esempio che è la polemica di cui dicevamo questo segnalibro che è dedicato e firmato ovviamente stampato perché è stato pubblicato dalla casa editrice doveva essere il regalo per chi preordinava il libro all'uscita ma non solo dai grandi distributori ma anche in libreria se tu preordinavi il libro doveva arrivarti la prima edizione con questo segnalibro purtroppo poi però può capitare che le cose non vadano come avrebbero dovuto e Salani ha deciso appena capito che stava succedendo che il libro avrebbe venduto molto di più di quello che loro avevano previsto a ristampare e quindi ha mandato nei magazzini di distribuzione anche la seconda ristampa e anche la terza cosa è successo che i distributori hanno fatto partire contemporaneamente prima seconda e terza edizione molti librai molti canali hanno ricevuto invece che la prima edizione per quelli che l'avevano prenotato la seconda e la terza che quel segnalibro non ce l'avevano all'interno e quindi è un'alzata di scudi nei confronti di Matteo che dice eh ma caspita avevi promesso il regalino eccetera eccetera il segnalibro e lui che come dici tu non si tira mai indietro si è messo a rispondere a queste persone anche ad una ad una in una sua in un suo post su Facebook lui ha scritto che ha risposto un giorno a 350 mail che gli sono arrivate quindi in privato perché 350 persone che avevano prenotato la prima edizione hanno ricevuto il segnalibro ovviamente lui dice io mi prodigherò per far sì che questo problema verrà risolto poi l'ha buttata lì sull'ironia dicendo però io spero che il libro non venga comprato per il segnalibro e quindi questo è quanto comunque ve lo volevo segnalare Matteo Bussola il viola e il blu Salani Editore dai gli ultimi tre minuti bella gli ultimi tre minuti dico dei titoli e poi parlo di un libro allora Bill Gates clima come evitare un disastro le soluzioni di oggi le sfide di domani Bill Gates è da anni che dice questa cosa qua nessuno gli dà corda lui ci prova ogni tanto l'anno scorso addirittura fu tacciato di aver provocato lui tutto ciò che è successo ma chi più ne ha più ne metta e lasciamo perdere è un libro interessante da leggere secondo me ci sono dei personaggi che sono degli illuminati e secondo me lui insieme al suo amico quello che è morto qualche tempo fa erano gli illuminati del secolo scorso almeno della metà del secolo scorso poi Barbara Baraldi sentenza artificiale molto interessante un libro thriller futuristico che ci racconta del ma quando i giudici saranno macchine quando a prendere le decisioni non saranno più i giudici ma semplicemente un algoritmo come potrebbe essere il mondo della giustizia in che direzione potrebbe spingersi poi ultimo ma non ultimo lui è il mio scrittore della sua generazione preferito in assoluto o meglio riformulo in italiano è il mio scrittore preferito in assoluto della sua generazione e si chiama Jonathan Safran Foer il libro è Eccomi racconta una storia imperdibile una storia di una famiglia che vive a New York ma che ovviamente è legata col mondo ebraico israeliano e succedono un sacco di cose scusate non New York Washington e succedono un sacco di sconvolgimenti lui è lo stesso scrittore di molto forte incredibilmente vicino lo stesso scrittore di ogni cosa illuminata se nulla importa perché mangiamo gli animali potremmo salvare il mondo prima di cena eccetera eccetera questo libro però secondo me ad oggi visto che è anche poi l'ultimo che è uscito è il suo capolavoro per cui se vi va questo è il mio tra i suoi libri preferito Jonathan Safran Foer Eccomi il libro lì mi guarda tutte le sere quando vado a dormire perché è nello scaffale dei libri da leggere mi guarda e io ogni tanto lo prendo poi vedo che è un po' lungo giuro che quando lo leggerai me lo devi dire mi devi dire Anto lo sto iniziando e allora io decido anche di fare questa cosa lo rileggerò quando lo inizi lo farò ultimo libro questo qua è è un gioco l'ho portato perché è un gioco anche perché io non ho mai letto nessun libro di Lupin e questa cosa è Maurice Leblanc l'ultimo amore di Arsenio Lupin pubblicato da PM è un libro che è impaginato come se fosse un libro per ragazzi ma in effetti poi è una storia alla Lupin si dice e questa cosa qua io la riporto così come la penso si dice che sia un manoscritto ritrovato cosa di meglio del manoscritto ritrovato per introdurre qualunque cosa esatto perché è successa una cosa molto divertente la serie di Netflix con Omar Sy dedicata a Lupin che ovviamente ha attualizzato le storie di Lupin se ci fate caso le puntate che interpreta Omar Sy sono basate su ogni romanzo dedicato a Lupin e poi la prossima serie andrà avanti ha fatto una cosa ha riportato in libreria tutto Lupin quindi si è ricominciato da capo ed è un altro degli argomenti di cui ho parlato ieri sulla pagina libri per passione parlando di classici io ho detto ragazzi vi sembrerà una cavolata ma non c'è niente di meglio per muovere i libri che trarne film e serie perché ogni volta che come è successo ne avevamo parlato l'altra volta che ero stato qui con la regina degli scacchi la regina degli scacchi si chiamava il libro non me lo ricordo comunque succede come è successo la serie uscita la serie il libro non era più in ristampa da anni appena è uscita la serie libro ristampato rivenduto un sacco di copie non si trova di nuovo più di nuovo una ristampa stessa cosa in questo caso con Arsenio Lupin benissimo allora dai ce l'abbiamo fatto abbiamo parlato di tutti incredibile penso che il spettacolo ci resta una manciata di secondi per farti gli auguri grazie domenica 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 50 un bel compleanno per cui ci uniamo a tutti quelli che te li faranno nei prossimi giorni con un leggero anticipo non si dovrebbero farli auguri anticipi ma la diretta è oggi la cosa divertente è che l'ho detto in diretta e invece ho tolto la data da facebook così non mi arrivano gli auguri e invece noi te li faremo che sciocco che so e te li stiamo già facendo 50 è una bella età ma passa anche quella non ti preoccupare lo dico da uno che ne ha passato da un bel po' allora grazie Paolo grazie a te per essere venuto a raccontarci tutte queste cose legate ai libri speriamo come sempre di non aver fatto confusione ma di essere riusciti a dare questo tipo di indicazione e di direzione e oggi abbiamo concluso siamo nei tempi giustissimi e abbiamo concluso la nostra prima settimana del ritorno alle dirette come sempre Casa Rossini va in onda anche in replica alle 16 del pomeriggio del giorno stesso e alle 22 e poi alle 15 e 30 del giorno dopo e compatibilmente con le esigenze di messi in onda di programmi in diretta diversi anche la domenica pomeriggio in una maratona televisiva che potete seguire tutte le volte che appunto noi la proponiamo grazie a tutti l'appuntamento con la nuova trasmissione in diretta per lunedì prossimo alle 10 fate un bel fine settimana magari perché no anche di lettura e te fai un bel compleanno grazie mille buona giornata grazie a tutti restate con noi sempre incollati allo schermo di Rossini TV grazie a tutti